Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo nel makeover del nostro Joseph Allora ragazzi, oh mamma con questa luce che barba rossa Allora ragazzi, eccoci qua in game, oggi, questa settimana un contenuto in più perché c'è appunto questo Cosa, ah, cosa scegli e cosa non, cosa gradisce e cosa non gradisce Scrivetemelo voi, vai, nei commenti, cosa gradisce e cosa non gradisce questo sim Vediamo voi come lo vedete questo piccolo Joseph Allora, Joseph si presenta così ragazzi, devo dire che è molto carino C'ha questo capello che è abbastanza semplice, io lo volevo appunto, volevo un look pulito No vabbè, adoro, adoro, vi ricordo che Joseph ha questo colore di capelli rispetto alla mamma Perché Martina in realtà ha questo colore di capelli ma glieli abbiamo scuriti Potrebbe essere anche un bambino maschio con i capelli lunghi, adoro, no no vabbè Comunque, allora, ci sono varie capigliature che ha, uh, bellino questo A me piacerebbe mettere questa qui raga Perché ci sono le, diciamo, capigliature Uh, anche questa è bella, questa è di frenesia ai fornelli raga, bellissima Veramente bello questo taglio di capelli Ma cos'è questo capello? Non li avevo mai visti raga Scusate ma non avevo bambini da un sacco di tempo Guardate che, comunque che zigomi che c'ha questo, questo bambino, adorabile Ah, ci sono anche i capelli di, uh, casa in affitto per l'appunto Che sono questi tre Carino, carino Volevo un effetto molto, molto, uh, ora ve li sto facendo vedere praticamente tutti Stiamo facendo una review raga Volevo un effetto molto pulito per il nostro Joseph Eh, quindi non questi Robbe tipo, questi li avevo già usati Sì, sì, questi li avevo già usati nei nostri, nei nostri gameplay Guardate già, tipo, eh, questo qui già molto carino Però raga, mi aveva convinto quello di prima, sapete? Aspetta, beh Frenesia ai fornelli Col fatto che comunque stiamo giocando anche con, abbiamo giocato con frenesia ai fornelli praticamente Con tutta sta cosa della pizza e dell'aspirazione di Martina Io direi che ci sta tantissimo Queste sopracciglia, allora dovrebbero essere così in realtà Eh, però un po' più scure e non ci dispiacciono Forse leggermente più, tipo, non così, ma così Un po' più sottili Guardate che bello che è! Ma è stupendo! Raga, una cosa però che voglio fare Ebbene sì, voglio mettere gli occhiali a questo sim Gli occhiali da vista perché io non li uso mai Non ho mai un sim con gli occhiali da vista E mi piacerebbe tantissimo averne uno Magari gli mettiamo un occhiale da vista abbastanza, come dire, sobrio Di certo non gli mettiamo questo Però un occhiale da vista un po' più sobrio, più carino Guardate questa montatura arancione bellissima Anche questa montatura gialla in realtà è molto bella Oppure c'è la lente tonda Amore Anche questo è molto bellino Cioè, dorato così Bellissimo Ci sono anche i grigi semplici così Cioè, tra un arancione No, mi piacciono questi, sapete? Vai, andiamo di occhiale da vista Raga, ci sta, dai Un sim con l'occhiale da vista Poi lui è un bambino prodigio Quindi ci sta, ci sta Andiamo a vedere gli abiti quotidiani Raga, ci sono una marea di robe molto carina Questo cardigan, per l'appunto, è già molto bello Infatti io glielo lascerei Dato che comunque gli era stato messo Diciamo, gli era stato impostato questo cardigan Io glielo lascerei Sinceramente Sincerly Adoro Gli abiti per i bambini comunque Sono migliorati negli anni, eh Perché prima c'erano veramente delle cagate assurde Invece adesso Hanno delle situazioni un po' più simili A quelle per, appunto, i grandi Andiamo a vedere Tipo un pantalone semplice Allora, noi siamo in primavera, abbiamo detto Quindi Anche un jeansettino così Secondo me Fa la sua porca figura Potremmo metterglielo chiaro Potremmo metterglielo grigio Potremmo metterglielo verde Però Questo colore Tutta vita Queste scarpe direi che non sono proprio per lui A meno che non vogliamo Questo sim Un po' LGBT Ma Secondo me È ancora troppo presto Per capirlo Io Vado sulle mie Classiche Scarpe Guardate qui Sono veramente Il kit Questo qui, raga I kit Di abbigliamento Devo dire che alla fine Io ci ho ripensato Sono veramente belli Andiamo Facciamogli un altro Ah, ce ne ha due Ce ne ha due di look Oddio Dobbiamo rimettergli i capelli Che avevamo scelto Che sono frenesi e fornelli Molto semplice Eccolo qua Occhiali da vista Come se non ci fossero domani Bene A questo punto, raga Potremmo mettergli anche un occhiale da vista Così E devo dire che anche questa magliettina Per Come dire La Wow Bellissima Proprio divisa scolastica Per Diciamo La primavera Va più che bene Ragazzi Allora qui Allora a questo punto Eviterei il jeans Gli metterei Un pantalone Che dite Io gli metterei un pantalone A questo punto Una cosa Un po' più Sobria Anche nero Eccolo qua Sì facciamogli un look Diciamo Questo è un look primaverile Per andare a scuola Dai Ci sta Diamogli una scarpa Di un certo Anche spessore Perché no Capisci Il look per andare a scuola Adorabile Questo è il look Diciamo Da tutti i giorni Questo è il look Per andare a scuola Tipo divisa Andiamo nella Situazione invece Di Come dire Abiti Eleganti Ce ne sono un pochino Ragazzi Ce ne sono Di molto carini Forse C'è Tutta vita Ecco Io sui bambini La giacca Non mi piace Cioè La evito Preferisco più Una situazione Così Un po' più semplice Però Devo dire che Questo completo È molto bello Però Anche questo È molto bello Allora Li cambierei Il colore degli occhiali Quanti ne ha di occhiali Questo bambino Una marea Capito Gli li metto così Blu Amore È un damerino È un damerino Sportivo Li leviamo Gli occhiali E forse Li dovremmo cambiare Anche le scarpe Perché questa tuta Invece mi piace Ecco Lui Ha dei colori caldi Ma gli piace anche Usare il nero E il grigio Anche per quanto riguarda Come dire Gli abiti Gli abiti da notte Io eviterei La Non mi viene il termine Gli occhiali E ragazzi Andrei ad utilizzare Questo nuovo pigiama Che avevano inserito Con un aggiornamento Una consegna express Se non erro Che Stupendo È diventato Diciamo Il mio pigiama Preferito A questo punto Guardate Bellino Bello 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 E c'è per tutti Ragazzi C'è anche per Gli adulti C'è per i bambini Per i toddler Quindi I like it Allora Qui dobbiamo Levare Il cappello Ma ti voglio mettere Comunque gli occhiali E a questo punto Ti metto di nuovo Quegli arancioni Per gli abiti da festa Andiamo un po' Sui Gli abiti Guardate che bellino Questo Che bellino Questo Molto Primaverile C'abbiamo anche Queste colorazioni Un po' così Un po' sgargianti Perché no Perché no Togliamo quelle calze Mettiamo una bella scarpa Alta Magari Un bella Un bel carramartino Ci starebbe Eh no Alla fine devo mettere Una cosa del genere Raga Perché se no No sense È molto bella C'è anche sul tono Del grigio Ma no C'è qualcos'altro Di quel genere No Beh Bellino Bellino Costume da bagno Ovviamente Senza occhiali Un parigamba Così Why not Molto carino Io glielo metterei Arancione Perché i suoi colori Sono molto Oh Bellino questo rosso Sono molto più caldi Sono comunque Da questo punto di vista Ci siamo Ci siamo Occhiali Lo dobbiamo Ecco Gli occhiali da vista Mi dispiace Cioè se li metto al primo No Come i capelli Mettimelo poi a tutto Che dici Bellina Questa magliettina Mettiamoglie L'azzurra Dai Mettiamoglie Un po' infantile In realtà Scicchissima Scicchissima Se è in affitto Questo ovviamente C'è anche questo Però Tipo crop top Eviterei Wow No vabbè Adoro Adoro Ah no ma questo è Crescere insieme Non mi ricordo mai Come si chiama Quella aspirazione Quella Quell'espansione Ma avete capito Bellina Guardate queste ciabatte Le metteremo Non lo so Da qualche parte Bello Bello Poi l'arancione e il blu Ragazzi Stanno un monte bene Un monte bene E questo ragazzi Invece è il clima Invernale Per il clima invernale Perché non lasciargli Anche una Un occhialo Un occhialo Di questo genere Why not Oh la la Guardate che bello Comunque lui sta bene Con moltissimi colori E ti dirò Questo pantalone Della tuta così Neanche mi dispiace Se proprio devo Essere sincero Però eviterei Così da mettere La tuta sotto Mettiamogli Sempre un bel jeans Magari A questo giro Possiamo mettere Un jeans Di un colore Un po' più Particolare Tipo anche questo Blu scuro O questo marroncino Ci sta D'addio Mettiamo lo scarponcino E ragazzi Top Top Bellissimo Questo bambino Prodigio Ci piace Quotidiani Raga Abbiamo L'abito Diciamo Per andare a scuola E l'abito Per tutti i giorni Poi abbiamo Poi abbiamo Il damer Sportivo Sportivo Favoloso Poi abbiamo Scusate L'elegante Favoloso Poi abbiamo Lo sportivo Senza occhiali Che ve lo dico a fare Il pigiama I like it I like it Poi abbiamo Questa cosa Favolosa Per l'abito Da festa Che forse è la Categoria di abiti Che io uso di meno E poi abbiamo Ovviamente Clima caldo E clima freddo Siamo in primavera Quindi questo clima freddo Forse non lo vedremo mai O forse sì Non lo so In primavera ci sta Che i sim Sentano freddo E mi piace Mi piace Tantissimo Fatemi sapere Ovviamente Voi cosa ne pensate Secondo me Diviso Il nostro Joseph È veramente Veramente Bello E nulla raga Scrivetemi Ovviamente Nei commenti Le sue preferenze Quindi magari I colori Che gli piacciono Di più Le caratteristiche Del sim Scrivetemi Delle cose Anche che magari Non gli piacciono Cerchiamo di rendere Il sim Con una personalità Ben precisa Io già L'ho messo Intollerante All'attosio Bambino Prodigio Occhiali da vista Quindi Secondo me Già NERD Vengono sempre Considerati Un po' Bruttini Un po' Così Un po' Sfigatelli Io non lo voglio Rendere Sfigatello Lui Perché Le persone NERD O comunque Le persone Che studiano Non sono Sfigate Io Ero Un bambino All'epoca Prodigio Nel senso Mi piaceva andare a scuola E ho ottenuto risultati Grazie a questo Mi piacciono i videogiochi Mi piace Le varie robe Ma Sono una persona Che poi Sono anche un armocromista Quindi mi occupo anche Del lato immagine Anche se voi Mi vedete In tenuta Sempre da casa Però Diciamo che Me la cavo anche Nel In quel campo E nulla raga Quindi io Come al solito Vi ricordo di iscrivervi al canale Attivare la campanella Commentate Fatemi sapere cosa ne pensate Datemi dei consigli Mettete un mi piace E se vi manca Qualche espansione Mi raccomando Andate dal link I di Stan Gaming Che trovate in descrizione Così da poter acquistare Tutto ciò che vi serve Tutto ciò che vi manca In maniera scontata Ma sicura Perché dovete stare Sempre attenti Da questo punto di vista Oppure c'è il tasto Super grazie Se volete Offrirmi un caffè Io penso che a sto giro Qualcuno di voi lo fa Vi mando un bacio raga Ciao a tutti